Fermato dai carabinieri alle prime luci dell'alba nei pressi di una ditta di carpenteria metallica a Talamona, da cui poco prima aveva rubato una bicicletta. L'autore del furto è un 47enne di colico, già noto alle forze dell'ordine. Agli uomini dell'arma di Sondrio l'individuo ha dichiarato che si stava recando alla stazione ferroviaria per prendere il treno e tornare a casa. Una versione poco convincente che, unita ad un atteggiamento alquanto sospetto, ha indotto i militari a perquisirlo, trovandogli addosso un paio di forbici e un coltellino. Poco dopo il vigilante della ditta informava i carabinieri che la bicicletta in questione era stata appena rubata dall'azienda e che l'episodio era stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza. Intorno alle 4 del mattino il colichese infatti si era introdotto nella ditta e dopo un giro perlustrativo all'interno della proprietà aveva rubato una bicicletta per fare rientro a casa, non immaginando di essere scoperto quasi in flagranza. Di lì a poco l'uomo è stato arrestato per furto e porto d'armi e portato presso la casa circondariale di Sondrio in attesa delle valutazioni della magistratura. Nei suoi confronti è stata richiesta anche la misura del foglio di via per vietargli il ritorno in Valtellina.